Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Lucca Est provenendo da Firenze. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra Chiesinuzanese e Monte Catiniterme. In A1, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica si ricorda che fino alle 18 di oggi per attività di ispezione, manutenzione e gallerie rimarrà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Bologna per viabilità esterna che non riceve in FIPI lì rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!